Il Green Pass da venerdì 6 agosto sarà necessario anche per accedere ai musei civici di Vicenza, certificato vaccinale da esibire assieme ad un documento valido di identità. Entrambi dovranno essere esibiti al momento dell'acquisto del biglietto e all'ingresso di ogni singolo museo. All'ingresso gli addetti avranno a disposizione un tablet dove scansionare il QR, quel quadratino che abbiamo imparato a conoscere e che contiene tutte le nostre informazioni. Naturalmente il Green Pass non esclude le misure già in vigore, quali il distanziamento sociale, l'igienizzazione delle mani, la misurazione della temperatura. La nuova disposizione non dispiace ai tanti turisti in città. Può essere un deterrente per vedere il museo magari? Assolutamente no, anzi è una cosa che ti assicura di più perché è una certa sicurezza in questa maniera. Come turisti questa cosa come la vedete diventa un impedimento magari che già bisogna andare per prenotazione, può essere un impedimento ulteriore? Per me no, cioè se il Green Pass viene chiesto per cose secondo me anche più difficili, nei musei con la prenotazione è abbastanza facile inserire un codice eccetera, quindi no, per me va bene. Quindi se vi chiedono, mi fa vedere il Green Pass, lei lo mostra? Sì, sì, ce l'ho sul telefonino, è l'unico modo per muoversi liberamente perché senza quello saremo di nuovo chiusi. Pensate che questo renda più difficile magari l'accesso, che qualcuno lo scoraggi in qualche modo? Ma per me assolutamente no, io sono molto favorevole al Green Pass, anche perché mi sono vaccinata, per cui penso che avendo fatto il vaccino sia doveroso avere anche degli accessi senza troppe problematiche.